Tornano a ruggire i leoni della traversata del lago di Monate, che dopo due anni di fermo sono pronti per la decima edizione che si terrà domenica 24 luglio, con la tradizionale partenza dall'Ido Canottieri Monate. Gara di nuoto aperta a tutti, che prevede nella sua versione classica una lunghezza di 2,4 km tra andate e ritorno, mentre il percorso per i più temerari, chiamato non per niente il Giro del Leone, lambisce il perimetro del lago, con i suoi 7 km e 700 metri. Premi speciali per i nuotatori cosiddetti a crudo, quelli dotati solamente di occhialini e semplice costume, ideatori e organizzatori dal 2002 dell'evento l'associazione sportiva Xunt Leones di Varese. Avremo diverse collaborazioni con noi, ho già citato la Canottieri Monate, che terrà durante la giornata la cucina, partendo dalla colazione al mattino e poi il pranzo a mezzogiorno. Collaborazione con Arena, collaborazione tecnica importante quest'anno, che ci ha fornito una serie di materiali che poi verranno distribuiti. Collaborazioni anche con associazioni di volontariato, alla quale noi magari riusciamo sempre ogni anno a donare parte della beneficenza. Ha una rinnovata VON Pallanuoto, VON Vareseolona Nuoto e un altro gazebo sarà per un'altra associazione che supporta lo sport per disabili, SD Poseidon. Non solo nuoto, divertimento e buon cibo domenica 24 luglio, ma anche solidarietà e un aiuto concreto per chi, come ha detto il Presidente Galli, ha qualche problema in più. Tra le due gare, dove i nuotatori veri si buttano per chilometri in acqua, noi faremo una nuotata speciale con una decina di ragazzi disabili per circa 300-400 metri e la facciamo in mezzo alle due gare quando c'è il numero massimo di persone che può vedere. E quindi questo è il momento un po' clou della giornata, che sarà poi con Radio Lupo Solitario, continuerà con una festa per tutto il pomeriggio.